In Italia quest'anno calerà anche il numero di lavoratori stranieri e quanto emerge dall'indagine annuale del sistema informativo Excelsior di Union Camere e Ministero del Lavoro. Giuseppe Malara. Quest'anno secondo Union Camere le assunzioni di lavoratori immigrati si ridurranno di oltre il 18% rispetto al 2011. Saranno oltre 22.400 in meno 60.570 nuovi posti contro gli 82.990 dell'anno scorso. Continua invece a salire l'incidenza della manodopera straniera rispetto agli italiani assunti che quest'anno caleranno del 31,6%. Dall'indagine curata da Union Camere e Ministero del Lavoro emerge anche che la nostra economia attrae un'immigrazione meno istruita rispetto a quella che raggiunge altri paesi europei. Nel 2010 i laureati rappresentavano solo il 10% degli immigrati in età lavorativa residenti in Italia, decisamente meno di Francia, Inghilterra, Svezia, Portogallo e Spagna. Il settore dei servizi conferma un elevato grado di assorbimento di personale straniero pari al 70% di tutte le assunzioni di immigrati e una maggiore tenuta occupazionale rispetto all'industria. A livello regionale la riduzione più consistente nella domanda di lavoro immigrato viene dalla Lombardia che in assoluto resta comunque la regione con maggiore richiesta. In sostanza in Italia aumenta la disoccupazione, diminuiscono le opportunità di nuove assunzioni e la qualità della forza lavoro presente nel nostro territorio nel suo insieme peggiora. E adesso il punto di salvezza.